Anche in Bielorussia è difficile, pericoloso fare i giornalisti. Arrestate tre donne, tre giornaliste in Bielorussia solo perché stavano facendo il loro lavoro. Il servizio di Sergio Paini. Katia! 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 Katia viene escortata in tribunale dalle guardie, mentre i suoi sostenitori scandiscono il suo nome. 36 anni, giornalista del sito di notizie Tutbai, è diventata l'ultimo simbolo della repressione in Bielorussia, incarcerata per aver divulgato segreti medici che hanno contraddetto le dichiarazioni ufficiali sulla morte nel novembre scorso del 31enne Rahman Bandarieco. Secondo l'opposizione, è deciduto dopo essere stato ripetutamente picchiato da agenti imbroghese. Secondo le autorità, invece, ferito a morte in una rissa tra ubriachi. Fu proprio lei, Katierina Barisiewicz, a rivelare che non c'era alcol nel sangue di Rahman, divulgando così informazioni che agli occhi delle autorità di Minsk rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica. Era stato il dottor Artyom Sorokin a fornirgliele. Per lui, alla fine del processo, sospensione condizionale della pena. Lei, invece, è stata condannata a sei mesi di prigione. Rischiava tre anni per aver fatto semplicemente il suo lavoro, fa notare la sua caporedattrice Marina Zolotova. Sei mesi possono sembrare pochi, ma l'unico verdetto giusto sarebbe stata la soluzione. Lukashenko, forte dell'appoggio politico e, se necessario, anche militare garantito dalla Russia di Putin, non si cura delle sanzioni occidentali, continua a reprimere il dissenso e a intimidire la stampa indipendente. Più di 400 i reporter detenuti, tra gli oltre 33.000 fermi effettuati durante le contestazioni, che proseguono contro la sua rielezione a presidente. Anche Daria Ciulzova, 23 anni, e Katierina Andrejeva, 27, giornalista di Bielsat, un canale televisivo dell'opposizione con sede in Polonia, sono state arrestate in occasione di una manifestazione in ricordo di Bandarienko. Accusate di fomentare le proteste perché la polizia le ha colte in flagrante mentre da un appartamento stavano trasmettendo in diretta l'evento non autorizzato. Condannate a due anni di carcere, hanno reagito mostrando la V di vittoria. Guardatele, forti, sorridenti, salutano i loro cari attraverso le sbarre. Ecco perché Lukashenko non può spezzarci, è stato il commento di Svetlana Tichanowskaya, leader dell'opposizione in esilio, che ha annunciato, a partire dalla primavera, una nuova grande mobilitazione.